At Shepsut è stata una delle figure più importanti dell'antico Egitto, essendo una delle poche donne a governare come faraone. La sua storia è affascinante e intrisa di intrighi politici e di notevoli successi. At Shepsut nacque intorno al 1508 a.C., era la figlia del faraone Tutmose I e della regina Amose. Il suo nome di nascita significava la più nobile delle nobile donne. Fin da piccola fu chiaro che At Shepsut non era una bambina comune, i suoi occhi erano penetranti, carichi di propositi, come se sapesse già di essere destinata a grandi cose. Crescendo, At Shepsut rivelò un'eccezionale arguzia intelligenza, imparando dai saggi e dai consiglieri della Corte Reale. Era un'acuta osservatrice che assorbiva avidamente ogni insegnamento. Suo padre Tutmose I, in intuì il suo potenziale e la educò all'arte del governo e della leadership, preparandola ad assumere un giorno responsabilità che sfidavano le convenzioni del suo tempo. Quando il fratellastro e marito Tutmose II salì al trono, At Shepsut divenne regina, ma non si accontentò di ricoprire un ruolo ornamentale. Ben presto divenne un'influente consigliera e un'influenza politica dietro le quinte, guidando Tutmose II nelle sue decisioni e plasmando il destino del regno. La morte prematura di Tutmose II, tuttavia, gettò un'ombra sull'Egitto. Tutmose III, suo figlio avuto da una concubina, era ancora troppo giovane per governare da solo. In un momento cruciale, At Shepsut assunse il ruolo di reggente, giurando di proteggere il trono e il popolo egiziano. Ma At Shepsut nutriva ambizioni ancora più alte. Consapevole delle sue capacità e determinata a garantire la stabilità dell'Egitto, prese una decisione coraggiosa. Si autoproclamò faraone, adottando il titolo completo di Maat Kare, che significa La verità di Ra è l'anima di Ra. Indossando le insegne e i costumi tradizionalmente assegnati ai faraoni maschi, sfidò le norme di genere e proclamò con coraggio la sua autorità. Sotto il suo regno l'Egitto fiorì come mai prima. At Shepsut spinse per la pace e la prosperità, ricostruendo antichi templi e incrementando il commercio con nazioni lontane. Ordinò anche spedizioni lungo il Mar Rosso e in Nubia, ampliando i domini dell'Egitto e assicurandosi la posizione di leader di spicco. La sua più grande eredità, tuttavia, doveva essere scritta nella pietra. At Shepsut commissionò opere magnitiche, tra cui lo splendido tempio di Deir el-Bahari, a testimonianza della grandezza del suo regno e della sua devozione agli dèi egizi. Ogni blocco di pietra, ogni geroglifico, conteneva la storia di una donna eccezionale che sfidò le convenzioni e lasciò un segno eterno nella storia del suo popolo. Ma il destino è spesso crudele con coloro che sfidano le norme stabilite. La morte di At Shepsut è circondata dal mistero e non esistono conclusioni definitive sulle circostanze esatte della sua scomparsa. Alcuni storici sostengono che potrebbe essere morta per cause naturali, come una malattia, ma ci sono anche teorie che suggeriscono che la sua morte potrebbe essere stata il risultato di cospirazioni e omicidi. Dopo la morte di At Shepsut, il figliastro Tutmose III salì al trono e cercò di cancellare la sua memoria, cancellando il suo nome da numerosi monumenti e iscrizioni. Ma l'eredità di At Shepsut non poteva essere cancellata così facilmente. Secoli dopo, gli egitologi hanno continuato a far rivivere la sua storia e a riconoscere la sua grandezza. La donna che divenne faraone, At Shepsut, è oggi celebrata come una delle regnanti più illustri dell'antico Egitto, una visionaria che sfidò le aspettative del suo tempo e lasciò un'eredità duratura alle generazioni future. È così che la storia di At Shepsut, la grande Maat Kare, rivive nei secoli, ricordandoci costantemente il potere della determinazione, del coraggio e della visione di cambiare il corso della storia.